Buongiorno, approfitto di questo momento difficile e del tempo a disposizione da casa per leggere una mia poesia invitata da questa bella iniziativa. Evita la poesia che non ha date o nomi di strave, è incerta come la vita, abita fuori città, tra rivi di gente comune e sottili marei, non ha nomi perché non ha niente da dire, né errori perché è senza luoghi, evita la poesia che non ha punti fermi e gira per giorni con qualcosa di usato, né accenti né centri di suoni corgoglia il silenzio, la poesia non ha idee, non ha nomi né strade, si muove a casaccio, a corto di prove, a volte sta lì, tra le righe, altre volte un'insegna sbiadita, qualcosa di nuovo, la fine sicura di un gesto qualunque la sera.